ciao a tutti adesso facciamo un video dai, mi sono ora sei un viaggio che non ha né meta né destinazione votate in sonora come best.com.it votate in sonora sono anche rafforzata ragazzi mi sono ora siete dei grandi io voglio venirevi vedere il concerto però non so se i miei genitori mi fanno venire comunque votateli best.com.it votiamoli al Yuri Music Awards 2008 ciao a tutti